Autorità, gentili ospiti, signore e signori, un cordiale saluto di benvenuto nella cornice di piazza Mercato dove si svolgerà la cerimonia in occasione della festa del patrono della polizia locale. Non è una scelta casuale ma corrisponde alla volontà di testimoniare anche in questo contesto festoso l'impegno dei corpi della polizia locale su tutto il territorio comunale e in particolare in quelle realtà che rappresentano più significative problematiche di sicurezza. Possono sembrare delle celebrazioni qualche volta in più. Io credo invece che sia giusto testimoniare il rispetto e il ringraziamento agli uomini e le donne della polizia locale che tutti i giorni in silenzio svolgono un compito che è proprio di prossimità del cittadino, del commerciante e delle persone che intendono vivere la città per far crescere i figli con laboriosità. Noi pensiamo che proprio alle persone più deboli, alle persone più svantaggiate dobbiamo giustizia e dobbiamo velocità di intervento e di presidio sul territorio. Poi voglio ringraziare di cuore i sindaci, i sindaci presenti e quelli che non ci sono ma che sono con noi col cuore. Ma quelli presenti è importante ci siano perché la città metropolitana si costruisce attraverso la gente, attraverso le generosità delle persone, attraverso anche una sana discussione.